Ciao amici come ogni lunedì benvenuti a casa mia e anche benvenuti al mio nuovo canale in italiano Laura Cepeda. Io sono Laura Cepeda e adoro insegnarti a te sere molte cose. Ricordate di iscribirte ogni lunedì che carico un nuovo tutorial in italiano. Mándami tutti i tuoi commenti e dame mi piace. Seguimi anche su miei social network, Facebook, Instagram e Pinterest. Oggi ti insegnerò come fare questo bellissimo colare che puoi fare in 15 minuti. È molto facile e molto veloce. Puoi teserli in tutti i colori per avere per ogni colore di vestiti o puoi lavorarli a malia per regalarli o venderli. I materiali di cui hanno bisogno sono 50 grammi di qualsiasi filo di fantasia come questi che ho. Ce n'è anche uno bello chiamato fiorentino e che puoi trovare nel mio negozio online in Spagna www.lauracepeda.is Lo espediamo a casa tua in Italia tramite Paco DHL. E hanno anche bisogno di un uncinetto del numero 4 o 5. Mentre iniziamo il tutorial. Amici, puoi anche teserli il colare con qualsiasi filo che tu hai. Puoi essere di cotone o acrilico. Iniziamo a lavorare a malia 12 catene molto vele che non sono alentate o troppo strette. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Quindi torniamo indietro e nella quarta catena ci accendiamo con il filo. Uno, due, tre, quattro. E facciamo un masiccio di questa forma. E quindi in ogni catena teseremo un masiccio. Prendo il filo, tiro uno, tiro due e tiro due. Dobbiamo avere alla fine dieci masici. E quindi dieci masici per dieci giri in modo che sia così come il mio e di questa dimensione più o meno. Quindi giriamo il nostro tessuto, saliamo con una catena e iniziamo a tessere i masici. Quando avremo finito i masici continueremo a tessere 50 catene che queste catene formeranno già il nostro collare. Quindi creeremo una striccia di 50 catene, le contiamo e la giriamo dell'altra parte. Con un punto basso, un punto nano, in questa modalità. Quindi creiamo una striccia di 55 catene dopo 60 catene e così via aumentando da 5 a 5 fino a quando noi abbiamo una striccia di 135 catene. Quindi creiamo la nostra seconda striccia di 55 catene e la accendiamo con un punto basso nel secondo masiccio di questa forma. Quindi la striccia di 60 catene nel terzo masiccio è così via da un lato all'altro. Da un lato all'altro. Devi stare molto attento e farlo quando sei calmo per non sbagliare e andare a contare le catene molto bene. Puoi anche scrivere su un folio il numero di catene che porti. Quando finiscono il colare, facciamo una catena, gettiamo il filo e tagliamo e nascondiamo questo filo nel tessuto. Ricorda che puoi fare l'ordine dei fili con me e adorerai i fili che abbiamo. Amici, abbiamo finito il colare. E spero che ti sia piaciuto molto e che tu l'abbia lavorata a Malia in tutti i colori e in tutti i dettagli. E ricordi, eventuali domande, commenti, puoi scrivermi e ti risponderò. Ci vediamo il prossimo lunedì con un tutorial molto bello. Ciao!